siamo nella zona sicura occhio ai nemici a posto in movimento girate quello che ho detto un'emiglio qua in mezzo oh qua avanti qua avanti qua avanti contatto sono l'avanti proprio diamo push alla dietro si 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 vado e mo se push a mo se push a ma dove ti ricordo da qua tu vai sempre dritto vuoi che si trovate uno avanti oh cecchino 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 emici dell'area locato due a terra uno qua senza piastre uno qua senza piastre aiuto 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 no ero qua dai aiuto aiuto al gulag tanto compagno ho finito nel gulag ebbe coi cecchini non mi aspettate più di tanto oh ragazzi ah uno gli ho fatto in questa finale che pushata che provo a che pushata che provo a io li ho fatto in questa finale